Inizia una nuova settimana e la nostra emittente è pronta a ripartire insieme a voi. Ben ritrovati gentili telespettatori ad un nuovo appuntamento con Di Giorno in Giorno. Una novità nel palinsesto di TSD in onda dal lunedì al venerdì. Ogni giorno una tematica precisa a fare da filo conduttore della puntata. Il lunedì come ormai avrete capito parliamo di sport e poi durante il corso della settimana tante altre tematiche verranno affrontate. In studio con noi ogni lunedì c'è la nostra Martina alla quale do il benvenuto e alla quale chiedo di ricordare i nostri telespettatori dove possono seguirci. Oltre che sul canale 85 del Digitale Terrestre potete seguire la nostra diretta in streaming al sito www.tsdtv.it Inoltre potrete rivedere le singole puntate sul canale YouTube della nostra emittente e anche nella sezione dedicata al nostro sito www.tsdtv.it Ogni lunedì come abbiamo ricordato all'apertura della puntata parliamo di sport. Quali saranno Riccardo i temi e gli argomenti che andremo a toccare oggi? Una scaletta particolarmente ricca di contenuti e temi che andremo ad affrontare dopo il primo spazio dedicato all'attualità nel quale andremo a vedere insieme le principali pagine dei quotidiani nazionali e locali seguirà il consueto blocco dedicato all'Arezzo Calcio. Andremo ad analizzare insieme la gara che ha contraddistinto la quindicesima giornata di Lega Pro. Giro ne ha per Yamaranto sconfitti a Cremona per 3-1 dalla squadra di Marco Giampaolo. Poi il consueto appuntamento con il Mondo Wisp. Quest'oggi tornerà a trovarci in studio Gino Ciofini, presidente del comitato aretino della Wisp. Insieme a lui Nunzia Gentile, dirigente e giocatrice dell'Electra, formazione di calcio a 5 che milita proprio nei campionati promossi dalla Wisp. Infine lo spazio dedicato agli sport minori con l'intervista a cura di Marco Cavini, responsabile dell'area comunicazione degli uffici stampa e GV, che quest'oggi ci propone l'intervista a due responsabili della Volley 88. Queste dunque le tematiche che andremo ad affrontare, ma come preannunciato partiamo dalle notizie contenute nei principali quotidiani nazionali e locali e in apertura trattiamo il QN che in prima pagina dà spazio alla politica. Silvio non dà più le carte, Renzi stoppa il leader di Forza Italia e apre ai 5 Stelle sulle riforme. Primarie PD flop in Veneto, il Cavaliere sferza i suoi, siamo già in campagna elettorale. Nella parte centrale della prima pagina la tragedia che ha colpito la Sicilia. Andrea Loris Stival, il bambino di 8 anni, trovato morto sabato nel Ragusano. Il titolo associato alla foto è stato ucciso, il padre so chi è stato, l'ammazzo, la polizia smentisce. Taglio alto dedicato allo sport, Pirlo al 92esimo decide il derby ma la Roma c'è. Chiaro riferimento alla vittoria dei bianconeri sul Torino e alla vittoria della Roma contro l'Inter che continua ad inseguire a distanza di tre punti la capolista Juventus. Poker di Viola contro il Cagliari di Zeman, Gomez si sblocca. E poi continuiamo sempre nel taglio alto a parlare di sport con una notizia purtroppo di tutt'altro rilievo. A Firenze il dramma vicino al traguardo, non ce la faccio più, muore alla Maratona un operaio di 38 anni. Ci spostiamo adesso nelle pagine interne, sempre del QN, dove questa notizia viene per l'appunto ripresa. Non ce la faccio più e cade a terra, muore a un chilometro. Dall'arrivo shock alla Firenze Marathon si ferma il cuore di Luigi Ocone, 38 anni. Questo dunque il tragico episodio avvenuto nella Domenica Fatale Fiorentina, lutto dunque nel mondo dello sport. Ci spostiamo adesso all'interno delle pagine nazionali, dove il messaggio di Papa Bergoglio occupa il titolo principale, il Papa basta con le guerre, l'Islam condanni il terrorismo. Bergoglio chiude il viaggio in Turchia e poi l'appello voglio andare in Iraq. Chiudiamo con le pagine del QN e apriamo il quotidiano sportivo che in prima pagina dedica il titolo a San Pirlo, il giocatore della Juventus. Uno straordinario gol del regista al novantatresimo regala il derby alla Juventus, rimasta in 10 contro 11. Al Torino non è bastata una rete straordinaria di Bruno Peres dopo 70 metri di corsa. Sul taglio alto il riferimento alla Roma inseguitrice che resta a meno 3. Mancini va Pjanic, questo il titolo che accosta il nome dell'allenatore nero-azzurro al giocatore bosniaco Miralem Pjanic che con una doppietta ha deciso la gara Roma Inter regalando ai giallorossi la vittoria e permettendo dunque alla Roma di rimanere in piena corsa scudetto. Andiamo all'interno nelle pagine del quotidiano sportivo dove c'è spazio ovviamente per l'Arezzo con il titolo Arezzo devi solo salvarti in riferimento alla sconfitta contro la Cremonese. Le parole di Capuano finora oltre le previsioni ma dobbiamo restare umili. Più 6 sulla zona play-out, questa è l'attuale situazione di classifica per Yamaranto. Una nota positiva la fa segnare la Berretti che vola con 4 acuti di fila. Dopo un avvio sofferto, quanto sfortunato, gran momento per la Berretti dell'Arezzo che ha conquistato 4 successi consecutivi. Nel taglio basso il riferimento alla prossima giornata con la sfida contro il Como, una gara molto complicata ma a disposizione di Capuano torneranno Gambadori e Campagna. Ci spostiamo dunque, lasciamo per il momento le pagine del quotidiano sportivo e arriviamo alla prima pagina del Corriere di Arezzo. Tassa rifiuti salata, questo il titolo di apertura, la protesta, i conti sulla bolletta. Mi costa 1,50 euro al chilo, a volte pago più a smaltire del cibo che a comprarlo. E poi nel taglio centrale la cronaca con la tragedia di Camucia, palloncini e lacrime all'addio al 14enne. Ieri il funerale del liceale Andrei Claudio, un amico legge cosa scrisse. Si farò l'architetto, ci spostiamo nella colonna di destra con lo spazio dedicato alla pagina sportiva. Arezzo l'allenatore guarda al mercato, le parole di Capuano, un attaccante altrimenti non ci salviamo. E rispunta l'ipotesi Machinua, quindi molto quotato, l'ex giocatore della Lazio. Dalla prima pagina del Corriere ci spostiamo all'interno dove troviamo un'altra notizia molto pesante per la città di Arezzo in tema di tagli. Questa volta Roma vuole chiudere la polizia statale di Arezzo, l'assessore Bennati, indispensabile contro i reati online. L'ennesimo taglio che riguarda Arezzo previene dal progetto di rimodulazione che il Dipartimento Nazionale di Pubblica Sicurezza ha preparato, si legge all'interno dell'articolo, tempo sei mesi e gli uffici della Polizia Postale di Arezzo saranno chiusi. L'assessore comunale Bennati, ruolo fondamentale di controllo e di prevenzione per i ragazzi. E sempre nelle pagine interne del Corriere di Arezzo, il riferimento alla tragedia che ha scosso l'intera Val di Chiana, palloncini, lacrime e quel tema, si farò l'architetto. L'addio al 14enne Andrei Claudio, ortodossi e cattolici insieme. L'amico legge cosa scrisse, ho scelto bene dove trascorrere 5 anni della mia vita. Lasciamo la cronaca per occuparci nuovamente di sport. Arezzo rispunta, ma Chinua, le parole di Capuano, due attaccanti. La trattativa con l'ex giocatore Lazio saltò quest'estate per una questione di soldi. L'allenatore ci serve gente che faccia gol. E rimanendo sempre in tema di sport, diamo uno sguardo alla prima pagina della Gazzetta dello Sport. La rosa che dedica il titolo alla perla di Pirlo. Segna 6 secondi dalla fine, il regista bianconero il derby della Juve. Apre Vidal su rigore, pari strepitoso di Peres con palla al piede per 70 metri di campo. E Allegri tiene il vantaggio in testa. Brutto gesto di ventura contro un tifoso, poi le scuse. Taglio alto dedicato alla grande inseguitrice, la Roma travolgente. L'interlotta rimonta due volte ma poi si arrende e adesso è undicesima in classifica. Quattro reti dei giallorossi, doppietta di Pjanic che non mollano la capolista. Espulso il tecnico neroazzurro Mancini. Dunque questa è la prima parte dedicata all'attualità. Tra poco torniamo con il blocco dedicato all'Arezzo. In studio con noi Giorgio Ciofini, giornalista ed esperto di mondo amaranto. Prima di salutarci per il primo break pubblicitario abbiamo parlato di Arezzo. Andiamo da Martina per vedere la classifica e i risultati della quindicesima giornata. Vediamo insieme i risultati maturati sul campo in questa quindicesima giornata nella Lega Pro Girone A. Vediamo Novara-Mantova 1-0, Cremonese-Arezzo 3-1, Sud-Tirol-Pordenone 2-0, Como-Lumezzane 2-0, Monza-Alessandria 2-3, Albinoleffe-Gianerminio 0-3, Rial-Vicenza pareggia con Torres 3-3, Ferralpi-Salò-Propatria anche per loro un pareggio 0-0, Renate-Pavia 0-1, Venezia-Bassano 1-2. Adesso vediamo insieme invece la classifica in seguito a questi risultati, che vede in prima posizione il Bassano con 31 punti, il Pavia che dopo la vittoria con il Renate conquista il secondo posto con 30 punti, seguito da Novara 28, Rial-Vicenza 27, Como e Alessandria entrambi 26 punti, Ferralpi-Salò 24, Monza 23, mentre l'Arezzo rimane al nono posto con 22 punti, insieme al Sud-Tirol anche lui con 22 punti, seguito poi da Venezia e Gianerminio con 19, Mantua-Torres 17 punti, Renate-Cremonese 16 punti, scendendo troviamo poi Lumezzane a 13, il Propatria in terz'ultima posizione con 12 punti, l'Albinoleffe 10 e chiude il Pordenone con 5 punti. Riccardo. E allora come preannunciato tra poco all'interno del secondo blocco di Di Giorno in Giorno lunedì parleremo proprio di Arezzo, focus intenso sulla quindicesima giornata e poi uno spiraglio sulla prossima che vedrà ospitare al comunale città di Arezzo il Como. Rimanete con noi, ci fermiamo per un breve break pubblicitario. Rimanete con noi, ci fermiamo per un breve break pubblicitario. Questa settimana l'appuntamento con lo spazio dedicato al mondo WISP. Andiamo subito a presentare e dare il benvenuto. È tornato a trovarci Gino Ciofini, presidente del comitato aretino della WISP, al quale diamo il benvenuto. Grazie, buongiorno. Benvenuto Gino e poi diamo anche il benvenuto e la ringraziamo per aver accettato il nostro invito a Nunzia Gentile dell'associazione sportiva dilettantistica Electra, formazione di calcio a 5 che milita nel campionato promosso proprio dalla WISP. Ben ritrovata anche a te, Nunzia. Cominciamo subito a conoscere questa realtà. Una formazione di calcio a 5, quindi nel mondo dello sport, ma Electra alle spalle ha un progetto ben più ampio. Sì, perché la squadra è nata da un progetto appunto del CLAA, che è il centro che frequentano i ragazzi, ed è nata appunto dall'unione che i ragazzi avevano per la passione per il calcio e proprio da un bisogno di sviluppare delle capacità motori. Quindi mettendo insieme questi due elementi abbiamo pensato che i ragazzi potevano comunque portare le loro capacità in altri campi, che era appunto quello di provare a partecipare al campionato della WISP. Grazie ad un preparatore, allenatore, che comunque ci ha accompagnato in questo percorso, abbiamo formato questa squadra che è composta da ragazzi diversamente abili e ragazzi normodotati. Gino, questo è un chiaro esempio di come la WISP interpreta lo sport e nello specifico di come il calcio possa essere strumento di integrazione e di inclusione sociale? Senz'altro. La WISP è un ente di promozione sportiva, organizza e diffonde lo sport, però non è uno sport il nostro che bada come primaria importanza al risultato o alla prestazione, bada alla socializzazione e alla partecipazione. E in questo quadro, in questo ambito, naturalmente l'esperienza dell'Electra che partecipa ai nostri campionati è per noi un'esperienza importante. consideriamo che noi abbiamo fatto non un percorso particolare per Elettra o per i diversamente abili, ma abbiamo voluto inserire queste società, non è l'unica Elettra, nei nostri campionati e quindi loro si devono confrontare con tutte le altre società che partecipano al campionato. Allora, Nunzia, quando avete proposto di partecipare al campionato di calcio A5 promosso dalla WISP, ai vostri ragazzi che tipo di risposta avete ottenuto? Una risposta assolutamente positiva perché comunque i ragazzi erano molto contenti di poter far vedere le loro capacità anche al di fuori del nostro centro. Devo dire che la risposta poi anche nel tempo è risultata positiva proprio per i risultati che abbiamo ottenuto. Gino, c'è stata un'iniziativa non molto tempo fa che ha visto protagonista da una parte la WISP e anche allo stesso tempo l'associazione sportiva dilettantistica Elettra. Mi riferisco all'iniziativa Gioco per Gioco, un concorso aperto a tutte le associazioni affiliate WISP che ha come obiettivo quello di dare visibilità alle buone pratiche che fanno dello sport e del gioco un canale privilegiato per creare coesione sociale e costruire spazi di aggregazione. Ecco, la domanda che voglio rivolgerti Gino è questa. Il comitato aretino della WISP, viste anche le premesse che abbiamo fatto, non poteva non aderire? Certamente, non poteva non aderire. Il progetto era un progetto più ampio, mettiamoci in gioco, al quale aderivano tante sigle del mondo sindacale, dell'associazionismo sportivo e non, e anche sigle del volontariato, e rientrava in un'iniziativa per informare, per sensibilizzare la popolazione ai rischi legati al gioco d'azzardo. La WISP non si è limitata ad aderire a questa iniziativa, ma ha voluto sensibilizzare il proprio mondo con questo concorso gioco per gioco, a quale si poteva partecipare in vari modi, mandando dei lavori, foto, racconti, poesie, video. Ecco, proprio in questo Elettra ha partecipato, con il supporto della WISP, con un video realizzato che ripercorreva la storia dell'Elettra e anche l'approccio alla gara, alla partita. Cioè, veniva messo in contrasto con quello del gioco, uno sport invece che creava coesione, coesione sociale, che creava partecipazione, che creava integrazione e inclusione. E questo video, devo dire, che è stato molto apprezzato perché è risultato uno dei 13 video, dei 13 lavori finalisti, diciamo, a livello nazionale. Quindi, insomma, un buon successo dell'Elettra. Un risultato importante, quello ottenuto da Elettra. All'interno del video si vedono chiaramente le dinamiche che contraddistinguono la squadra. Come scegliete? I ruoli? Chi scende in campo? Le sostituzioni? I ragazzi? In questo sono i protagonisti? Sì, i ragazzi, quando arriva il momento della partita, sono sempre molto agitati perché hanno sempre paura di non essere convocati o comunque di non riuscire a partecipare a quella partita. Noi puntiamo soprattutto allo sviluppo delle capacità motori. Quindi, in base anche alle loro capacità e a dove sono maggiormente portati, insomma, gli facciamo fare degli esercizi o comunque gli assegniamo dei ruoli che possono essere adeguati a quel tipo di persona. E devo dire che questa cosa nel tempo ha molto funzionato perché poi hanno continuato a sviluppare le capacità che avevano già. E in più hanno comunque permesso alla loro persona di poter sviluppare proprio il proprio corpo, anche a livello motore, perché comunque sono delle persone che fondamentalmente di attività fisica ne fanno pochissima. Quindi attraverso il calcetto e lo sport, insomma, il calcio a 5, questa è una possibilità che insomma gli ha dato molto. C'è un'altra iniziativa che ha visto le vostre realtà partecipare. Abbiamo analizzato lo sport come strumento di integrazione, ma può essere allo stesso tempo anche uno strumento per lottare contro i pregiudizi e gli stereotipi, i luoghi comuni. Mi riferisco all'iniziativa Mentre gioco mi diverto, abbinata al decimo trofeo nazionale Pionta, presenti sia alla Wisp che Electra. Gino, anche questa è un'importante iniziativa dal valore molto consistente. Sì, sì, senz'altro, senza dubbio. Noi anche qui siamo molto contenti di supportare l'iniziativa dell'associazione Colle del Pionta che quest'anno a metà ottobre ha organizzato una a due giorni appunto dal titolo Mentre gioco mi diverto. È un'iniziativa diciamo che mette al centro il rapporto tra la popolazione e la problematica della salute mentale. Troppi pregiudizi, troppi stereotipi condizionano questo rapporto e lo condizionano purtroppo in maniera esclusiva. Le ragioni delle paure e della diffidenza che nascono dalla non conoscenza sono purtroppo ancora molto presenti. Noi con questa iniziativa insieme all'associazione Pionta cerchiamo di trovare un momento invece di conoscenza, di integrazione e di partecipazione comune. Mi ha fatto piacere particolarmente il fatto che a queste due giorni hanno partecipato tre scuole calcio di tre associazioni della nostra città, Arezzo Academy, Arno Calcio e Olmo Ponte che hanno organizzato un torneo di bambini, la tribuna si è riempita anche di genitori naturalmente e quindi è stato un momento di conoscenza e di integrazione sulle problematiche della salute mentale. E noi su questo argomento abbiamo preparato un breve contributo video, è così Martina? Sì. E proprio in occasione di questa decima edizione del torneo nazionale Pionta abbiamo intervistato Marco Capulli dell'unità funzionale salute mentale adulti dell'uslotto di Arezzo. Andiamo quindi a sentire insieme cosa ha detto i nostri microfoni. Calcio è uno strumento per comunicare, per capire le proprie capacità del corpo ma soprattutto serve per aiutare la mente e la salute mentale si adopera anche dello sport per il benessere psicofisico e sociale di questi ragazzi utenti della salute mentale e con tanta gioia, tanta passione, tanta voglia di fare sport e di giocare ma soprattutto di crescere insieme si ottengono dei risultati anche imprevedibili ma molto positivi. Abbiamo dunque ascoltato anche le parole di Marco Capulli. Nunzia avete partecipato a questa decima edizione. Grande entusiasmo da parte dei ragazzi. Dal punto di vista dei risultati quali posizioni avete ottenuto? Allora dal punto di vista dei risultati se non ricordo male abbiamo ottenuto la terza posizione. Devo dire che è stata un'esperienza molto positiva anche perché i ragazzi poi si sono confrontati con realtà al di fuori della provincia di Arezzo. Quindi questo fatto che comunque la WISP può permettere l'integrazione e l'inclusione sociali anche al di fuori della nostra area questo è un aspetto molto molto positivo. Electra si prepara a tornare in campo per la settima giornata del campionato di calcio a 5 WISP girone unico di eccellenza. Andiamo alla nostra postazione web da Martina per vedere quali sono le gare in calendario. Martina. Andiamo a vedere quali saranno i match che andranno a caratterizzare questa settima giornata di andata. Alcune gare sono previste proprio per questa sera che si disputerà l'Atletico Tregozzano Pion Tarezzo alle 21 presso i campi degli Snoopy. Questa sera inoltre ci sarà Madame Adore Wanted alle 20 a Pescaiola e Tennessee di Smortal Coil alle 22 sempre agli Snoopy. Mentre altre partite si disputeranno giovedì 4 dicembre. Quelli che il Chianti ciclone alle 21.30 agli occhi verdi. Super Santos Electra alle 21 ai campi degli Snoopy. Dirty Socks e Bangla Boys alle 21 agli Snoopy. Mentre venerdì 5 dicembre ASD Bagnoloni Statale 69 ai campi degli Snoopy. Riccardo. E rimaniamo sempre in postazione internet perché siamo in chiusura e a Martina ricordiamo, facciamo ricordare ai nostri telespettatori dove è possibile seguire la WISP ed in particolare i vari campionati di calcio. Martina. All'indirizzo www.wisp.it.arezzo troverete il sito aggiornato del comitato aretino della WISP con tutte le informazioni sulle attività in corso. Da quest'anno c'è un'importante novità con il sito interamente dedicato al calcio con i risultati, le classifiche e i turni che potrete trovare all'indirizzo www.calciowisp.arezzo.it dove potrete rivedere anche le partite con la telecronaca di TSD. Riccardo. Ringraziamo dunque Martina per queste importanti ed utili informazioni e per averci tenuto compagnia anche all'interno di questa puntata di Di Giorno in Giorno lunedì. Un'ultima domanda, un in bocca al lupo anzi per l'Electra, per la prossima sfida che abbiamo visto in programma per la settima giornata. Ringrazio i nostri ospiti, Nunzia Gentile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Electra. Ringrazio Gino Ciofini, presidente del comitato aretino della WISP. Termina qui dunque il nostro spazio dedicato al mondo WISP. Torniamo tra poco con l'ultimo blocco della trasmissione. Ultimo blocco della trasmissione di giorno in giorno lunedì, come anticipato, è la volta dello spazio a cura di Marco Cistampa e GV quest'oggi. Parliamo di pallavolo, ospiti in studio abbiamo Stefano Gialli, al quale do il benvenuto, secondo allenatore della prima squadra e allenatore del settore giovanile. Diamo il benvenuto anche a Marcello Comanducci, direttore tecnico della Volley 88. Marco, allora lascio a te la parola e ascoltiamo dunque la tua intervista. Grazie Riccardo. La Volley 88 Chimera è tornata in questa stagione a disputare un campionato di Serie C dopo la vittoria della Serie D. Per il suo debutto in questo campionato ha deciso di affidare la propria squadra a una coppia di tecnici anche fortemente simbolica, perché è formata da Marcello Comanducci, che è tra i fondatori della società, e da Stefano Gialli, che è stato l'artefice degli ultimi successi del settore giovanile. Dopo un inizio di campionato abbastanza difficile, nelle ultime settimane stanno arrivando le prime vittorie, ora siete reduci da due successi consecutivi. Sì, è stato un inizio abbastanza complicato, ma lo sapevamo, un po' e ovviamente l'impatto sul campionato, la categoria superiore, un po' perché le prime tre erano comunque tre squadre allestite per il passaggio di categoria, quindi è stato complicato, però sconfitte comunque tutte di misura, sempre lottate, poi da lì abbiamo cominciato a crescere, crescere come squadra, crescere come gruppo, ma soprattutto crescere come mentalità. Sono arrivate nelle ultime quattro partite tre vittorie, quindi molto positivo, le ultime due alti break in situazioni molto complicate e quindi abbiamo dimostrato grossa tenuta psicologica, quindi siamo soddisfatti. Ripercorriamo l'ultima vittoria, quella di sabato con il Tavernell, come è andata la partita? Sabato è stata una partita intensa, di quelle che possiamo definire delle battaglie, perché il secondo set è finito 32-30, giocando punto su punto, annullandosi una volta noi una volta loro il punto decisivo, poi siamo andati sotto 2-1, c'è stata una grossa reazione delle ragazze e poi la cosa sicuramente più interessata è stato il tie break, dove vincevamo 12-0, un punteggio obiettivamente difficile da vedere nella palla a volo e che dimostra comunque che c'è forte tenuta sia fisica che psicologica, perché andare avanti 12-0 fuori casa con una squadra superiore a noi è positivo. Stefano, qual è l'obiettivo con cui la Volle 88 disputa questo campionato? L'obiettivo di quest'anno sarà sicuramente centrare una salvezza tranquilla, essendo una neopromossa in questo campionato, curare le nostre giovani che stanno venendo su veramente molto bene, assieme a Marcello stiamo facendo un lavoro anche specifico per poter lanciare le nostre giovani in questo campionato e già da ora stanno dicendo la sua in ogni gara, che Marcello assieme a me le stiamo inserendo e loro stanno rispondendo molto bene. Una particolarità della vostra rosa è che è quasi completamente fatta in casa con giovani cresciute dal vivaio. Puoi presentarci Marcello un po' le giocatrici della Volle 88? Sì, la prima squadra è stata allestita con una logica molto, molto, soprattutto su una cosa di futuro, in prospettiva, in quanto nonostante il passaggio di categoria abbiamo deciso di non andare a prendere giocatrici da fuori, ma abbiamo soltanto inserito nel gruppo che ha vinto lo scorso campionato due ragazze di esperienza che ci servivano per ovviamente mantenere il livello più alto della categoria, ma poi abbiamo puntato su tutto il resto dell'organico, sulle giovani provenienti dal vivaio, le ragazze che ha allenato Stefano, che secondo noi erano pronte, magari non per giocare titolari, ma pronte per cominciare ad acquisire dalle ragazze più grandi quelle scaltrezze che magari servono nei campionati superiori e le stiamo già utilizzando a piccole dosi nei punti importanti della partita per farle crescere insieme a tutto l'organico, quindi molto positivo. Dunque un po' un bilanciamento fra esperienze e gioventù. Esatto, sì sì. Marcello è fra i fondatori della Volle 88 ed ha allenato la Volle 88 anche ai gloriosi tempi della B2, com'è stato tornare in società, tornare ad allenare dopo tanti anni? No, molto bello, io erano mai sei anni che ero fuori dalla palla a volo per motivi di lavoro che ero impossibilitato proprio ad allenare. Quando Massimo mi ha chiamato dicendomi che la prima squadra era rimasta senza allenatore, sinceramente all'inizio sono rimasto un po' colpito. Strano che insomma una squadra che vince il campionato poi si ritrovi senza allenatore, ma sono tornato volentieri per vari motivi. Primo perché per me è stato proprio come tornare a casa. Ho trovato le stesse persone con cui abbiamo vinto tanto, ho trovato gli stessi dirigenti, l'organico. In più sono molto felice di poter dare una mano, soprattutto in prospettiva non solo per le ragazze, ma anche per Stefano, che considero un allenatore di grosso talento e che in futuro potrà sicuramente far bene per la società. Quindi se posso dargli un apporto anche semplicemente di esperienza, per me è positivo. Mi ricorda molto media c'è anni fa. Cioè Stefano, siete una coppia compatibile? Sì, un fratello maggiore. Marcello poi è, come ho già detto, il fondatore della Voglio 88. Senza di lui e mio babbo la Voglio 88 non sarebbe sicura esistita. La presero da un lontano paese, eh Marcello? No, scherzo. Era una piccola società, una piccola realtà di Capolone e Subbiano che man mano poi è cresciuta con loro due. Io ero il figlio del Presidente che andava a raccogliere i palloni a Marcello. Sono cresciuto, insomma, guardando Marcello in palestra. Infatti c'è una somiglianza tra me e lui molto grande, insomma, nei modi di fare. Te Stefano, negli ultimi anni hai seguito la crescita delle giocatrici del Bivaio. Giocatrici del Bivaio che ora ti ritrovi in prima squadra. Com'è stato accompagnarle fin dai primi passi della pallavolo e ora in un campione Serie C? È una grande soddisfazione. Cioè è un gruppo che io seguo da sette anni. L'ho preso dall'Under 12 e man mano è stato bello vederle crescere. Siamo partiti, mi ricordo, sette anni fa con questo gruppo. Facemmo un tredicesimo posto in Under 12, l'anno dopo la finale Under 12. Poi man mano siamo sempre saliti Under 13, secondo posto. C'è sempre mancato poco per arrivare ai primi posti, i primi posti che sono arrivati negli ultimi due anni. Io alle ragazze glielo dicevo che piano piano impegno e lavoro avrebbero ripagato e negli ultimi due anni abbiamo fatto dei bei traguardi. L'anno scorso il cinquantesimo, non a caso Marcello conquistò il primo e io il cinquantesimo. Per me è stata una grande soddisfazione anche questa. Lui il primo e io il cinquantesimo. Primo e cinquantesimo si intendono i titoli vinti. I titoli vinti sì, negli ultimi 15 anni. Dal 2000 ad oggi la Voglio 88 ha vinto un totale di 53 titoli nelle varie categorie, consolidandoli perciò come una delle realtà di maggior successo della provincia. Qual è il segreto alla base di tutti questi successi? Il segreto sicuramente la passione e l'impegno che tutti ci mettiamo, dal presidente, allenatori, dirigenti, che nonostante le grosse difficoltà che ci sono, come sappiamo in tutti gli sport economiche, impiantistiche, tutti insomma ci rimbocchiamo le maniche e ci diamo da fare e cerchiamo di trasmettere alle ragazze che la pallavola è uno sport bellissimo di squadra che ti insegna tanto, come del resto di tutti gli sport. E insomma che se uno si dà da fare poi i risultati se sei, vieni fuori e vengono. Uno dei tuoi fiori all'occhiello possiamo dire è stata la cavalcata della scorsa stagione dell'Under 16 che ha vinto praticamente tutto quello che ha giocato. Sì, nell'Under 16 ci siamo tolte delle belle soddisfazioni. La squadra non favorita del provinciale, siamo arrivati i primi con tante difficoltà, durante l'anno ci si è fatto male un paio di ragazzi, abbiamo sopperito a questa mancanza un po' sconvolgendo la formazione e come sorpresa, cioè l'obiettivo era arrivare almeno in finale o tra le prime tre e come sorpresa siamo arrivati a giocarci una finale e poi poi vincerla. L'organico era buono però non eravamo tra le favorite, quello era chiaro. Dopo poi abbiamo vinto il campionato italiano a Rimini, anche questo è proprio stato la ciliegina sulla torta della scorsa stagione. Il campionato primavera Under 16 che è anche qui, insomma tre campionati nel provinciale abbiamo detto la nostra alla grande. La bontà del vostro lavoro è denotata anche dal fatto che sono state ragazze che dal video sono salite in prima squadra, ma sono state anche ragazze che sono andate in campionati superiori. Sì, abbiamo qualche ragazza che ha preferito fare altre esperienze in categorie superiori come tante altre in passato, Marcello lo potrà sottolineare. La Voglio 88 ha lanciato ragazze come Letizia Savelli che ad oggi gioca in A1, San Martano Carima che è un giocatore di A2, che Marcello ha cresciuto e altre ancora che non stiamo a elencare. Anche quest'anno un'altra nostra atleta è andata a fare un'esperienza in B2, gli facciamo tanti auguri e io tifo per lei perché possa andare ben oltre, Margherita Lachie. È logico, è una squadra di ragazze che oltre a lei ce ne sono dell'altro che potranno arrivare secondo me in alto, che quest'anno insomma sono in Serie C con noi. Vediamo un po' cosa viene fuori. Marcello, una presentazione più generale della società, dal mini volley in su. La società è impegnata un po' su tutti i campionati giovanili, i campionati giovanili sono per noi il bacino su cui costruire poi il futuro della squadra, il futuro della prima squadra. Siamo una società che da sempre punta a fare sport a tutti gli effetti, quindi per noi è importante fare sport, fare attività fisica, ma soprattutto fare e allestire anche squadre che possano comunque vincere o lottare per vincere tutti i campionati, dal più piccolo al più grande. Noi non ci interessa fare sport solo per fare fitness perché secondo noi non è sport quello. Questo va ovviamente a cozzare alle volte anche con problematiche perché poi ti scontri anche con i limiti delle ragazze che magari poi non riescono a diventare poi brave per poter fare le categorie superiori. Però noi seguiamo tutti, dalle piccole alle grandi, seguiamo quelle che magari inizialmente nel giovanile sembrano un pochino più indietro delle altre perché in passato ci siamo resi conto che ognuno ha propri tempi, quindi c'è quella che magari è bravissima già dall'under 12 come c'è quella che invece nei giovanili bassi sembra magari poco coordinata ma poi col tempo acquisisce quelle qualità fisiche e tecniche che le servono per crescere. Quindi noi cerchiamo di seguire tutti, tutti i tecnici della società sono impegnati proprio su questo, quindi sul miglioramento delle basi della pallavolo, quindi dei fondamentali della tecnica, però lavoriamo molto anche sulla testa, sulla mentalità perché poi alla fine il nostro è uno sport con degli equilibri talmente sottili che magari alleni tutta la settimana, bene è un fondamentale, però poi le ragazze affrontano la partita con la mentalità sbagliata e vanifichi tutto il lavoro. Quindi è un mix di lavoro tecnico e lavoro mentale. È l'unico modo per poi poter andare a vincere i campionati anche perché il nostro è uno sport molto stressante che se l'avversario ti vede un po' in difficoltà ne approfitta, come giusto che sia, quindi la tenuta psicologica è importantissima. Stefano, chi c'è nell'attuale staff tecnico della Volley 88? Allora, partendo dall'Under 18 che la seguo io, poi scendiamo verso l'Under 16 che la segue Caterina Valesio, un'allenatrice che ormai sono decenniche con noi, poi nell'Under 14 che quest'anno sta disputando un ottimo campionato, siamo attualmente al secondo posto, Marcello Bucci che è venuto quest'anno con tanto entusiasmo, uno dei migliori allenatori che abbiamo inserito con questa squadra a livello Under 13, Under 14, uno dei migliori che c'è in provincia, infatti sta svolgendo un ottimo lavoro con queste ragazze. Poi abbiamo l'Under 12 che la seguo io e Eleonora Gineprini che siamo riusciti a coinvolgere anche lei come allenatrice che gioca in prima squadra, insomma siamo riusciti a coinvolgere anche lei, alleniamo insieme ai due gruppi, poi c'è Sara Gialli insieme ad Erika Fantoni, due atleti doc che allenano tutta la parte mini volley della volley 88. Insomma siamo riusciti anche ad inserire Erika che già dall'anno scorso allenava e Eleonora Gineprini che è un pilastro assieme a tutti gli altri, siamo riusciti a coinvolgerle come allenatrici proprio perché trasmettano a loro quella passione che hanno loro, sono due atleti Eleonora ed Erika, ora prendo loro come esempio perché allenano, che sono cresciute con noi e quindi hanno quel senso in più di attaccamento alla maglia che possono trasmettere alle bambine che secondo me è una cosa importante oggi perché per far appassionare una giovane ci vuole tanto e parecchie volte non ci riusciamo. Quante sono all'incirca le bambine e le ragazze nella vostra società? Nella nostra società le ragazze sono tante, anche quest'anno abbiamo avuto tante iscritte che purtroppo causa spazi, siamo costretti a tenerle raccolte nelle palestre che abbiamo che purtroppo il discorso è sempre quello, aver avuto un impianto come hanno altre società noi potremmo già essere ad un buon livello. Gli impianti a noi ci fanno rimanere un po' ristretti dove siamo, anche se non ci lamentiamo per gli impianti che abbiamo e per le amministrazioni che ci hanno sempre aiutato e ci hanno sempre dato sostegno. Purtroppo le strutture sono quelle da decenni, dobbiamo tenerci raccolti dove siamo. Anche se purtroppo questa carenza vi ha obbligato a mandar via anche delle bambine. Sì, c'è stato anni indietro, ci ha obbligato a mandare via molte bambine e anche quest'anno abbiamo dovuto mandarla via. Purtroppo siamo tanti e i spazi sono quelli, cerchiamo di metterci due o tre tecnici per poterli eseguire, anche nei gruppi più numerosi, proprio per fare dei piccoli gruppi e sfruttare gli spazi più possibile. Per una proposta di maggiorità. Però è logico ci vorrebbe un impianto nostro, tra virgolette, dove noi possiamo avere più spazio e più ore, cosa molto difficile insomma, che spero nel futuro possa avverarsi. Un sogno nostro che ormai dall'epoca di quando facevamo la B2, Marcello, è un sogno che speriamo che un giorno si avveri. Ricordiamo che la Volley 88 si divide fra la scuola media cesalpino e la palestra dell'ITIS dove per l'appunto gioca la prima scuola. Domenica, sabato, vi attende un appuntamento particolarmente importante perché in Serecci c'è il derby cittadino Volley 88 Youth? Sì, obiettivamente per noi è sicuramente una partita importante anche vista la posizione in classifica poi di entrambe le squadre, quindi è comunque uno sconto diretto. Però ti dico la verità, affronteremo come una normalissima partita in quanto certo dà più soddisfazione vincere con una squadra comunque della tua città, però sarebbe limitativo puntare a quello come obiettivo della stagione. Quindi per noi è una partita importante, ma soprattutto è la dimostrazione per capire chi è cresciuto meglio magari in questo periodo, perché bene o male il derby con la Youth è una partita che ciclicamente ti giochi e quindi è un test anche importante da quel punto di vista, però l'affronteremo in modo molto molto tranquillo. Ricordiamo che poi sia Volley 88 che Youth sono matricole nel campionato di Serie C. Guardando al futuro, qual è l'obiettivo della Volley 88? Cosa ambite? Ma guarda allora, il giovanile dovrà sempre essere il serbatoio per la prima squadra, quindi tutti i tecnici sono impegnati a continuare a lavorare costantemente su trovare atlete in grado di poter fare la prima squadra non ora, non tra un anno, tra due anni, ma nei prossimi anni. La prima squadra quest'anno sta facendo un campionato dichiaratamente di transizione, vogliamo vedere a che punto e a che livello possono arrivare le nostre ragazze. Se la risposta dal campo sarà quella che noi tutti ci aspettiamo, quindi comunque un buon campionato con una buona mentalità, sicuramente il prossimo anno ci saranno i presupposti per poter rinforzare e puntare a qualcosa di più. Ma prima di rinforzare vogliamo assolutamente far crescere i nostri ragazzi. Ringraziamo Stefano e Marcello e ripassiamo la linea a Riccardo. Grazie Marco, ringrazio anch'io gli ospiti che ci hanno tenuto compagnia nello spazio che conclude la puntata di Di Giorno in Giorno lunedì. Stefano Gialli, secondo allenatore della prima squadra e allenatore del settore giovanile e Marcello Comanducci, direttore tecnico della Volley 88. Ringrazio ovviamente anche Marco Cavini degli uffici Stampa e GV. Siamo in chiusura, ringrazio tutti voi per averci seguito. L'appuntamento con Di Giorno in Giorno torna domani, sempre in diretta, sempre sul canale 85. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a tutti.